Benvenuti in questo nuovo video di LamanGas Questa oggi giochiamo a guardia e ladri Molto semplice, due sono poliziotti Tutti gli altri sono in ladri, bisogna catturarli Se i cattori finiscono in prigione, se finiscono in prigione Non possono uscire, ma possono essere liberati e tornare ad essere dei ladri Vinci, se riesce bene tutti Loro vincono se finiscono le tasche E sono una guardia! No, davvero? Buongiorno Io sto scappando Ho visto un poliziotto Aiuto Ma se mi nasconde mi campero? No, 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 sei tu No, non sono io Oh, mi hanno liberato Uno l'ho preso Non mi avrete mai Non mi avrete mai Ah, ti credi furbo Ti credi furbo Via, 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 qui c'è qualcuno in prigione Vieni amico, esci No! C'è l'elfo! C'è l'elfo! Perché non l'ho potuto prendere? Libera mio amico, perché c'è uno FK dentro la prigione? Tu amico, vieni, 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 vieni Vieni qua, maledetto schifoso Io sto liberando un sacco di prigionieri Dai! Sono una grande Ma l'ho preso, sto infame Steph fa schifo come poliziotto Sì, di brutto Oh, ne ho preso due di fila Aspetta, aspetta, ai nostri amici No! Oh, 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 oh Non camperate? Andatevene, maledetti Sto qua mi sta da fastidio Ma io avevo il buon animo di salvare tutti Per quello poi sono stata catturata alla fine Ok Bene amico, grande Preso! Tutti liberi! Tutti liberi! Dai, davvero? Sì No, non vi sopporto Tutti liberi! Mi hanno pure chiuso le porte Ma basta! Faccio pure la task Ma no! Vai, ho fatto pure una task Non so se ci debbano fare effettivamente Allora, presi Ok Poi esco di nuova da qua Vado qui Io voglio andare qui È un disastro Fare il poliziotto Ma voglio fare il ladro io Il ladro è stradivertente Ok Non c'è nessuno Tutto qui Ok Ma le task vanno fatte? Sì, vincete così fare Ok È l'unico modo che avete per vincere Io sto facendo, quindi sto facendo bene Non sto incasinando tutto No, 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 esatto Allora, vieni qua in famone Ok Fatte Questo mi fa triggare Finite Perché poi ne hai pochissime in realtà Vorrei andare a Liberare qualcuno Che sicuramente sarà prigioniero Allora Ta 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 Abbiamo visto Ma Chi è un altro poliziotto? Non si può chiudere le porte, dai Eh sì, le porte sono chiudere Ma loco, tu sei imprendibile Bravi Sono fortissimo Scappo, scappo Dalla città Con i miei frati Hai qualche petto? Sei riconoscibile? Bevo dalla burraccia Buonanotte, Steph Te lo dico un altro giorno No Sono passata a bianco I due poliziotti Aiuto Ti hanno preso? No, no, no Mi sono inseguendo entrambi Ok Allora Io devo andare Piano piano Quindi a fare Anche le mie task Non sarà per nulla Non sarà per nulla semplice Aiuto Mi dispiace Ma dai C'è vero Ho avuto una sfiga Grazie, grazie Ok, sono libero Dove devo fare le task? Ah, devo tornare allo sponio Allora io stavo facendo una task E sono stata catturata Ti sembra corretto? Sì Stavo facendo una task Mi sembra più che giusto Porca miseria Ok Aiuto mio amico Ehi tu Ehi tu Ehi, ehi Sono da sola Non mi verrà mai nessuno a liberare C'è qualcuno Sei tu qui dentro? Fuori, fuori, fuori Sì Scappa Sto scappando Stanno arrivando Sto scappando Sto scappando Aiuto Dividiamoci Aiuto Allora, devo fare le missioni Devo fare le missioni Anche io sei questo comunque Ti riconosco dal pet Abbiamo le stesse missioni E questa? Ah, dobbiamo cercare il pianeta giù Dov'è? Ma qual è il pianeta giusto? Devi trovare quello giusto Io non lo trovo Non lo trovo Dai Ma dai, non lo trovo Eccolo, eccolo Trovato Trovato Mi hanno preso Mi hanno preso Ma possa essere preso? Perché devo fare il telescopio Adesso io stavo facendo il telescopio Perché non trovavo il pianeta Ok, eravamo miei temi Abbiamo cambiato modalità Adesso ogni dieci secondi si cambia Spero che questo non sia l'impostore Xiao? No, vero? No? Bravo ragazzo Tu? Bravo ragazzo Teleport Ok Dove? Ok Mi sono teleportato proprio con Xiao Perfetto Allora Ma c'è vesticchio Devo ricordarmi un po' a memoria No, non ci arriverò mai Non ci arriverò mai Ecco qua Ecco qua Ecco qua Ok Questa riesco ad acchiapparla Sì, finalmente Anche io Ok, adesso devo terminarla velocemente Prima di schiattare Ok Non è morto qualcuno qui, giusto? No? Ok Perfetto Allora, allora Non sta andando male No Oh, è arrivata la mia prossima tasca Mi viene da pianto Ok Aspetto il prossimo Tanto è inutile Sono troppo lontana Sono troppo lontana Non ci arriverò mai Ok Ma che fortuna Mi ha teleportato dove dovevo Uno, due, tre Quattro, cinque Cinque, cinque, cinque Finito Finito tutto Chi? Dove? Quando? Non riesco a fare nulla Perché? Eh, Marci Tu eri fermo lì in alto a destra Ah Ero fermo in alto a destra, sì Eh, il corpo era nella stanza di sotto Eh, ma mi ha appena tippato Sono passati cinque secondi No, mancano quattro secondi in realtà Eh, infatti Quindi sei secondi buoni Perché io ho camminato Eh, ero fermo in admin Che stavo facendo una cosa Achille L'ha tippato lì Quindi molto probabilmente Raga, non so io No, no Molto probabilmente Se tu stavi in admin E ti ha tippato lì Quello che stava in admin Al posto tuo Cioè, quello che stava lì Che poi è andato in admin Era l'impostore Però è inutile saperlo Ah, che è stato xiao Non è rilevante questa cosa Eh, come era rilevante Se qualcuno stava in admin Ah, no, è vero Io, io c'era, sì Io, io ho visto C'era anch'io Marti, ero indietro Vi ho visto voi due Volevo fare un momento di intimità E ho detto, vabbè Io, asciugamanino Ho già finito le tasche, raga Eh, vabbè Eh, vabbè Giuro? Vabbè, per fortuna Mi ha portato sulle tasche Beh, a tu te Ma io non riesco a prenderne manco una Fai te Ma con io Vabbè, io ho avuto basica Ha detto che la mia informazione Non è rilevante Maestro Va bene, va bene Mi scusi che noia Ma non ho capito io Così, per dare qualcuno un voto Per divertimento, dai, vabbè Per divertimento Allora Allora Direi sto con qualcuno tutto il tempo Ma in questa modalità Non siamo d'accordo Non serve a nulla E quindi passeggio E cerco di vedere Chissà chi è Non ho proprio sospetti Beh, piano piano Inizieremo a capire qualcosa E quello è ovvio Grazie al cavolo Mi ho presa un'altra Finalmente Ok Dove sono? Atteggiamento interessante Perché mi teletrasporta Sempre dalla parte opposta In cui io devo fare Le mie cavolo di task Prego, promettete la mano Vi scongiuro Vi scongiuro Niente L'ha ucciso Loco Loco è sul cadavere Palese Io stavo andando in alto a sinistra Raga È stato schillato in questo momento Mi sa Sì, esatto Sì, sì Ma ha tippato A me ha Loco di fianco E Loco l'ha ucciso Quindi Posso dire una cosa? Io stavo andando in alto a sinistra Raga E lì stavano andando Buddy Però se Loco e Nico Si sono tippati lì sopra È per forza Loco Io no Io ero Al rattore a destra E lo stava facendo Stefano Mi ha subito tippato E ho trovato il corpo Io vado a Loco Nico stava andando in quella direzione O Nico non è stato tippato O è stato tippato lì E l'ha ucciso Ma è impossibile Che non mi tippi Loco Ma che dici? Beh, puoi essere tippato Nella tua stessa posizione In effetti può succedere Non mi posso Non mi posso Allora Ragazzi facciamo una cosa Se non è Loco È Nico Ok Facciamo così Se non è Loco Votiamo Nico Va bene Va bene Io ero già per Nico Sinceramente Anch'io Quindi non ho votato Loco Ma ragazzi No, non è come se Perché mi è sembrato sincero Tutto lì Oh cavolo Ciao 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 Tutto bene Non mi uccidere Non ti uccido Sei tu? Non lo sono Ok, meno male Sono innocente Ti ho fatto finta le tesche Da dieci minuti Eh vabbè Potevi far finta Che c'entra Allora Un'altra Incredibile Ok Ciao E basta Allora Io devo fare una missione qua Non mi ricapiterà mai Di tornare in questa zona Mi dispiace Arrangiatevi tutti Biorare le finestre No No No, io sto facendo una task Non vedo nulla No Ok Che succede? Che potevo scoprire tante cose belle Ok Mi ha teletrasportato Da una mano all'altra E sono riuscita a farla così Vabbè Ok, ho finito Le task intendo No No, basta Oh No, sono incastrata Raga Mi ha incastrato Mi vedi che sono incastrata qui dietro Non puoi tornare? No No, vabbè Devo aspettare di essere teletrasportata Guarda No, non voglio essere baggata al posto tuo Non ci teleporta più? Sei? Vedo cinque Non vedo più neanche il mio nome Sono baggatissima qui dietro Come se hai baggato i teleport No No, no Eccomi Ok Hai incastrato vesicchio Mi dispiace Che ti devo dire Dipende da me È il gioco che Ma queste cose Luci No, non chiuso la porta No No Dai, sono rimasto incastrato io adesso Ma l'avete visto il bug del reattore Che rimane incastrato lì Vabbè Scusate Se non abbiamo beccato gli impostori Cosa è successo? No, è morta Fere ora Sì Sì, sono morta Non sono io però In che senso? No, non c'è solo un impostore Sono due, no E noi avremmo perso Vabbè io non posso neanche parlare Accidenti In questa momentà è uno È uno solo perché sono rimaste le cose Sì, quando abbiamo finito C'era scritto un impostore rimasto Perché sono rimasto Ah, ma io sono mutato da mezz'ora È Nico Punto Me l'ha ucciso davanti Ma come? No, non sono io Guarda che però Io ho detto già la prima Ma siamo alla porta Io che noia è Fere E Nico Punto l'ha ucciso No, no, non sono io Ma Nico era susso anche prima Secondo me è giusto che muori Vabbè, attenti a Vesicchio Ve lo dico Mi spiace Ma Vesicchio io lo vedo sempre fermo Non so perché Eh, però magari fa qualche scatto Non lo sai Quale va? No, sono stanco Sono figro Vediamo Ecco Ecco qua Ma non erano due Non ci avevo fatto caso Pensavo fosse uno l'impostore No, erano due Cioè, non sono due, scusami Non lo so, ho il dubbio Di sicuro noi non abbiamo trovato un impostore Cioè, ma davvero non hai visto chi mi ha ucciso? Era a fianco a te No, Tari, io non c'ero Io ero a fianco a te Eh, ma mi ha teleportato via Ah, ok Per quello non hai visto Ok Io, vabbè Giro da fantasmino Ho già fatto le mie tasche Buona fortuna a tutti, ragazzi Qualcuno, ecco Ecco qua Molto bene Molto bene Molto bene, Gigi Che cosa hai visto, Nico?